Le nostre scuole sono un vivaio, terra fertile che dobbiamo curare, stimolare e proteggere in modo da costruire una società nuova dove non sono le borse e la finanza a fare notizia ma la morte di un povero senza tetto nel gelo di una notte. Papa Francesco ha incontrato il mondo della scuola e dell'Università di Chito e ha ricordato con forza che il bene e la verità non sbocciano dal potere della tecnologia e dell'economia e che è venuto il momento di guardare la realtà in modo organico e trovare delle risposte concrete per arginare il dilagante degrado umano e ambientale. Dinanzi ai poveri abbandonati e maltrattati, alla terra oppressa e devastata non è infatti più possibile voltare le spalle e le comunità educative hanno un ruolo vitale, essenziale nella costruzione della cittadinanza e della cultura. A tutti, soprattutto ai giovani boccioli del futuro dell'umanità, il successore di Pietro ha ricordato che il dialogo costruisce ponti e che il diploma universitario non è sinonimo di uno status più elevato, soldi, prestigio sociale, ma il segno di maggiore responsabilità per i problemi di oggi rispetto alla cura dei più poveri e rispetto alla salvaguardia dell'ambiente.